cellulare, eccolo, piazza Eutopia, proprio Vulcano Buono, nel cuore di Vulcano Buono ci sarà Clementino in concerto il 30 aprile dalle 18.30, affrettatevi questo è un messaggio non solo pubblicitario ma siamo grandi sostenitori anche di Vulcano Buono, nostro sponsor, anche nostri amici naturalmente e tra l'altro ci sarà anche una diretta proprio nel post Champions quindi il ritorno dopo il Maradona proprio lì a Vulcano Buono, tantissimi eventi, assolutamente tanti eventi che piazza Eutopia offre, che Vulcano Buono offre, intanto fiumi di persone, Carmine possiamo anche andare noi al contrario, aiutiamo Carmine a salire o meglio a scalare ribadisco però non è giusto che lui deve salire come un gambero quindi contro ma e noi giriamoci ecco, così, praticamente per forza mi vuoi pagare oggi, eccoci, beh, facciamo così ci siamo ogni tanto mi giro, ci siamo, ci siamo, siamo arrivati, qui tra l'altro a Pasqua è stato boom di turisti, tantissime persone provenienti davvero da tutto il mondo per vedere queste strade, per assistere a questo spettacolo d'azzurro, per vedere il murale siamo quasi a meta, scusami ma sta il mio numero, sto a Mundo Virgin, non capivo che... ce l'abbiamo fatta eccoci qua, ce l'abbiamo fatta Luca siamo arrivati, guarda Luca ce l'abbiamo fatta grazie, tu ce l'hai fatta, io non lo so ancora salutate, salutate, ciao 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 buongiorno buongiorno eh? Isabella Isabella se non stai a dire neanche il nome però siamo... eh, beh, Giuseppe, Giuseppe, Sara, Marco Ambra ecco, siete qui con la scuola? sì sì di dove siete? di Serse allora ragazzi, vi piace Napoli? sì facciamo un video, mi ha fatto intanto stai facendo un video perché ci stiamo... vedi? allora, seguite in diretta sul mattino.is, sulle pagine social il mattino, quindi ciao condividete, ci dite un Forza Napoli oppure ti fate altre squadre? eh, forza Napoli ma loro sono sociali però, capite? Bisogna portarli verso Napoli, ciao, ciao, ciao buongiorno, nome? Giovanna Giovanna, siamo sul mattino.it, sui canali social del mattino Forza Napoli ecco sempre lei è napoletana? sì allora, napoletana di ieri ha visto la partita? eh, no, non l'ho vista non l'ha vista, lui sì allora, che cosa è successo ieri? ieri abbiamo perso però è stato solamente un caso episodico, spero arbitraggio, voto eh, non mi esprimo ma è zero migliore in campo? migliore del Napoli? ah, io penso che sia stato comunque Kim uno dei migliori che non ci sarà però al Maradona anche a chi sa non ci sarà ecco, che cosa succederà? succederà che ci sarà io, Angelisus e Dalí Fermat e all'Italia di questo, come dovranno entrare in campo? cosa si aspetta da quella partita? soprattutto i primi 15 minuti dovranno essere fuoco e fiamme bene io ho un piccolissimo tifoso che come vedi anche in un giorno non calcistico ma post calcistico indossa la maglia del Napoli come ti chiami? Mattias allora Mattias, la partita di ieri l'hai vista? sì come ti ha lasciato? ti sento studiato in poco così? eh sì eh diciamoci la verità però, che succederà al ritorno? martedì? allo stadio? pavati porta? bellissima più bella vera speriamo di sì dai Napoli ce la farà? fincerà lo stesso? andiamo in semifinale? sì emozionatissimo grazie Mattias un bacio grande nomi? no è scappata nomi nomi scappano tutti scappano tutti ma noi siamo in direttura d'arrivo allora, intanto Carmine facciamo vedere il murale di Maradona ai tantissimi tifosi che si trovano proprio a largo Diego Armando Maradona ai quartieri spagnoli è un tempio assolutamente bellissimo un tempio un modo per essere vicini alla squadra del cuore a questo Napoli che ci sta dando tanta soddisfazione è un anno assolutamente magico meraviglioso allora, ricordiamo l'appuntamento da Eutopia a Piazza Eutopia che è proprio vulcano buono Clementino in concerto il giorno 3